L'inizio ridurre le tasse sulla prima casa oggi significa dare fiducia agli italiani. L'Italia che intende dimagrire, l'Italia che intende stare bene in salute. È finita la fase in cui continuiamo a tassare, tassare, tassare. Ha un valore simbolico. E anche per ridare salute al vostro corpo. Si scrive legge di stabilità, si pronuncia legge di fiducia. Ne parleranno lungamente anche i giornali, ne parlerà anche la televisione. In un paese in cui tutti i giorni si parla di tasse sulla casa. Un giorno sì e un giorno no. L'unico modo per sostenerla, a nostro giudizio, è dare degli shock. E anche tanto dinamismo in più. E tutte le volte che andavo a parlare degli 80 euro, 10 miliardi di euro. Che non si ripeterà mai più. C'era quello che mi diceva, sì, però l'Imu è aumentata di 50 euro. Valore commerciale, 100 mila. E più le tasse vanno giù e speriamo che più l'economia vada su. Siamo intesi? Bene!